Stagione turistica 2018, stranieri avanti tutta. Per Fano si registra, secondo il termometro delle presenze di federalberghi provinciale, un netto incremento di presenze straniere, provenienti soprattutto dal nord Europa. I luoghi fanesi non ancora presenti nei canali del turismo d'élite come giapponesi e russi, più propensi a località modaiole e di lusso, dove fare sfoggio della riccanza più sfrenata in locali ed alberghi, o nel caso dei giapponesi, del made in Italy più stereotipato all'estero come la capitale o le sempreverdi Venezia e Firenze, ci attestiamo con decisione in una fascia di turismo più dedicato alla cultura, al buon cibo, alle località poco inflazionate, ma che hanno un tessuto storico ed archeologico importante con un'entroterra che rappresenti una valida alternativa all'ombrellone. Fano, appunto. Uniconeo a guastare la festa, la sempre più importante dipendenza di alcuni utenti turistici dai siti di previsioni meteo, che soprattutto a lungo termine condizionano, spesso e volentieri erroneamente, le scelte dei vacanzieri. Sì, è andata discretamente, abbiamo avuto un giugno che ci ha penalizzato, però un luglio e un agosto che naturalmente ci ha portato dei bei benefici, anche se queste previsioni meteorologiche ci hanno rovinato, perché ci hanno rovinato proprio la settimana di ferragosto. Naturalmente quello che dispiace queste previsioni che vengono fatte a lungo termine non porta e non è veritiero. Gli eventi anche hanno contribuito ad attirare persone e turisti? Bisogna togliere il cappello a passaggi, abbiamo visto anche il Festival Jazz che ha portato tanti, tanti, tanti stranieri e quello è un bel biglietto da visita. Naturalmente le altre manifestazioni, il brodetto, Fano dei Cesari è da potenziare perché è piaciuta molto. Noi abbiamo sentito degli ottimi risultati negli alberghi per la Fano dei Cesari. Ecco, però voi dal vostro punto di vista come albergatori avete sempre puntato il dito anche verso una piaga che vi affligge o l'abusivismo è purtroppo ancora un comparto importante. L'abusivismo è quella piaga che ci danneggia, ci danneggia tanto perché non possiamo prima di tutto sapere i flussi della gente che viene, che gente è, da dove vengono perché noi naturalmente sulla promozione investiamo dove vediamo il flusso interessato della nostra città. Poi non abbiamo i numeri reali, non avendo i numeri reali ci penalizza molto e quello non solo a livello fiscale ma anche a livello di presenze nella nostra città.